E qual è la novità di fondo, l'altra grande novità di fondo di questa seconda ondata, che spiega almeno parzialmente anche i dati d'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale? L'altra novità di fondo ha a che fare con l'età mediana dei contagiati, perché nei mesi più difficili di marzo e di aprile l'età mediana delle persone contagiate ha sfiorato i 70 anni, è stata sostanzialmente tra i 65 e i 70, in qualche giorno addirittura ha raggiunto, ha toccato i 70 anni. Oggi, in questo momento, nell'ultima settimana, l'età mediana delle persone contagiate è di 41 anni. Ed è chiaro che una persona più giovane è mediamente molto più capace di resistere alle evoluzioni più complicate che il virus può portare al corpo umano. E però anche da questo punto di vista c'è una tendenza che non può farci stare tranquilli, perché nel mese d'agosto l'età mediana era invece 31 anni. E quindi anche sul piano dell'età c'è una tendenza che va nella direzione di un innalzamento. E dovremo in modo particolare, in questi mesi difficili, tenere la massima attenzione possibile alle persone più fragili agli anziani, a chi ha altre patologie. E dobbiamo stare attenti in modo particolare al contagio infrafamiliare, perché se l'età si è così alzata è perché evidentemente dentro le famiglie, che dalle generazioni più giovani, almeno parzialmente, il virus è stato portato a generazioni che sono più avanti negli anni.